Un'altra trattativa che viene svelata, non dai giornalisti, fu svelata da un DJ. Si ricorda la questione di Fellani che ci stavate lavorando in gran segreto e che questo DJ quasi per caso la incontrò in aeroporto. Come andava quella vicenda? In qualche modo fece saltare la trattativa oppure l'ha ostato l'ho? No, 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 assolutamente. Lì fu semplicemente il mezzo dell'United che disse di no all'uscita del giocatore. Fu divertente comunque il fatto che proprio l'altro giorno ero all'aeroporto di Charleroi per rientrare dal Belgio e sono entrato nei gate dell'aeroporto e mi è venuta in mente la scena perché arrivai all'aeroporto di Charleroi per incontrare Fellani con un amico, con una persona, insomma in incognito tra virgolette c'è a dire non facciamoci riconoscere, cerchiamo. E come si aprirono le porte degli arrivi trovai chiaramente napoletani che sono ovunque Come si aprirono proprio a come si aprirono le porte Ho capito il secondo povero